E' stata ripristinata la viabilità sul tratto della strada statale 18 Tirreno Inferiore all'altezza di Maratea, la zona che lo scorso 29 novembre era stata interessata da una frana che si era staccata dal costone antistante località Castro Cucco, qui nella perla del Tirreno. Oggi per la riapertura del tratto era presente il ministro delle infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Salvini è arrivato insieme al presidente della regione Basilicata Vito Bardi, insieme al sindaco Daniele Stoppelli e all'amministratore delegato di ANAS qui a Maratea per incontrare i giornalisti. Diversi temi affrontati non solo relativi ai lavori oggetto dell'incontro ma anche temi politici a livello locale e a livello nazionale. Noi abbiamo sentito le sue impressioni. Intanto promessa mantenuta, siamo a metà luglio, si può arrivare a Maratea da tutta Italia in macchina e quindi è stato un lavoro impegnativo. Ringrazio tutti, ringrazio ANAS, innanzitutto ingegneri, tecnici, operai, il comune, la regione, tutti hanno fatto la loro parte. Sembrava impossibile quando ci incontrammo nell'inverno scorso vedendo quell'enorme pezzo di montagna che ha distrutto 150 metri di strada, riattivarla entro l'estate, è stato un lavoro giorno e notte, bene. Adesso ovviamente ci sarà un senso unico alternato, ci sono sensori, ci sono controlli, c'è personale sul posto. Stiamo già progettando la soluzione definitiva in galleria perché ovviamente non dipende da noi la tenuta della montagna. Stiamo intervenendo abbondantemente e pesantemente con 3 miliardi in provincia di Potenza e in provincia di Matera. Adesso illustrerò come arrivare più in fretta, come collegare con l'alta velocità in progettazione. Poi alcune varianti stradali che sono lì da 40 anni, sia in provincia di Potenza che in provincia di Matera, sono fiducioso che nei prossimi mesi si recuperino anni persi. Anche temi nazionali oggetti del confronto con Matteo Salvini, sentiamo. Serve una riforma della giustizia urgente, efficace e condivisa, non contro nessuno ma coinvolgendo tutti, tutti i magistrati compresi, sperando che nessuno sia bloccato dall'ideologia, diciamo che questa non è la priorità. Che è dell'Unione Europea per la ZES del Mediterraneo, un'importante infrastruttura, quanto è utile? Soprattutto secondo lei in che tempi si può realizzare? Il prima possibile. È un'ottima notizia. L'importante è semplificare, togliere burocrazia, togliere perdite di tempo, come abbiamo fatto con il codice degli appalti. Io sono pronto anche domani. Sulle regionali si stanno avvicinando. In Basilicata già si è aperta la campagna elettorale. A Roma dovrete fare un tavolo per decidere chi sarà il candidato. Può essere un uomo della Lega? Verrà riconfermato Bardi, visto che è qui con lei? Il destino dei Lucani lo decidono i Lucani. Non ci saranno tavoli romani che decideranno per la Basilicata, come il destino dei Trentini si decide in Trentino. Io sono assolutamente contento del lavoro svolto fino ad oggi e della squadra della Lega. Poi lascio al territorio decidere cosa e come fare. Sul caso La Russa, il suo vicegrippa ha parlato che era meglio il silenzio. Lei condivide questo punto di vista? Buon lavoro. Soddisfazione per i lavori è stata dimostrata anche dal presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e dall'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra. Qual è? Abbiamo analizzato quello che è l'obiettivo dei prossimi lavori da svolgere in Basilicata sulle infrastrutture. Sentiamo. Certo, è una buona notizia. L'ho sottolineato. La presenza del ministro Salvini oggi testimonia che è un evento importante. L'abbiamo visto anche dalle immagini, dai filmati, quanto impegno e la difficoltà di un intervento non semplice da realizzare. È una giornata importante perché questo significa che Maratea oggi riapre. I turisti si devono sentire tranquilli. Gli abitanti che sono stati ascoltati hanno apprezzato molto questo evento e credo che questo sia l'inizio anche per il nostro territorio, come ha detto il ministro prima, un inizio per mettere a punto una serie di iniziative che già sono in atto. Io mi auguro, o l'ho sottolineato anche all'amministratore delegato di Anas, che quei lavori avviati siano dei lavori che presto possano trovare compimento e soprattutto possano dare un certo sollievo da un punto di vista della sicurezza, soprattutto infrastrutturale, per la nostra regione. Il ministro ha elencato diversi ulteriori lavori che verranno svolti sul terreno. In sintesi, i più importanti ci riconencare lei ai tempi? I più importanti in completamento al 2023, gli obiettivi sono sicuramente la Tito Brienza, la Basentana e la Potenza Melfi. Tutti i cantieri in corso saranno completati entro il primo trimestre del 2024. E sui nuovi progetti io penso e credo che la regione Basilicata ha fatto un programma tale per cui dovremmo dedicare una sessione dedicata a un programma mirato per le nuove opere. Lavori fatti in tempo record. Devo dire che questo aspetto è positivo. Il ministro Salvini, nonché vicepremier, non dimentica questo territorio. Oggi è qui presente per inaugurare l'apertura. Noi, io in particolar modo, unitamente al senatore Rosa e all'onorevole Cagliari, abbiamo presentato un ordine del giorno al governo che l'ha accolto per uno stanziamento di ulteriori 5 milioni affinché si possa migliorare la situazione. C'è un dato negativo che devo evidenziare, che l'apertura è a orario, dalla mattina alle 7 alla sera delle 23. Ecco, chiediamo all'ANAS di rivedere meglio la propria organizzazione, perché già tanto ha fatto l'ANAS, però di rivedere meglio la propria organizzazione affinché si possa aprire la strada 24 ore su 24. L'oggetto specifico dei lavori qui a Marattea ce li ha spiegati l'amministratore delegato di ANAS, Aldo Isi. Questo intervento è circa 4,5 milioni di euro, perché siamo intervenuti in più fasi tra la parte di studio, propedeutica, le università, il disgaggio del materiale, la messa in sicurezza del versante e la realizzazione della viabilità stradale. Quindi un puzzle di interventi per un complessivo costo di 4,5 milioni di euro, però riteniamo che sia stato un costo assolutamente adeguato per l'importanza della località. Presto per dare tempi precisi, ma in linea di massima, a questa galleria che risolverebbe definitivamente il problema delle infrastrutture di Maratea, che tempi di realizzazione prevederebbe? Allora, è chiaro che stiamo parlando di un'opera più complessa rispetto a quella che avete visto. Questo è stato un intervento lampo, in emergenza, in urgenza, ha beneficiato di tutta una serie di accelerazioni normative, vi è anche un commissario straordinario, in questo caso che è agevolato, per la realizzazione di un'opera del genere, che è un'infrastruttura nuova, vi è necessità di un itera autorizzativo, di una progettazione, un itera autorizzativo, un bando di gara e finalmente la realizzazione. Quindi parliamo di un percorso più lungo. L'impegno che posso assumere oggi qui è di accelerare la progettazione al più possibile. Sul tratto che è stato inaugurato oggi, poi dopo la stagione estiva verrà chiuso per completare i lavori oppure resterà così? Allora, oggi vi è una fascia che è stata individuata in termini di apertura diurna, che va credo fino alle 23, dalle 7 alle 23. Per quanto riguarda la stagione estiva abbiamo garantito fino al 30 di settembre, questo è l'impegno che abbiamo assunto in funzione di un tavolo tecnico che ha assunto una decisione sulla base di un'analisi di quelle che sono le problematiche del territorio e del contesto. È chiaro che in una stagione invernale, con la stagione delle piogge, la precarietà del versante impone una riflessione importante. E di smessi i panni di ministro alle infrastrutture, Salvini nel pomeriggio si è spostato a Potenza come leader del Carroccio per inaugurare la nuova sede regionale del partito. Molti militanti iscritti qui ad accoglierlo nel capoluogo di Regione Lucano. Sentiamo le sue impressioni. Per me è un orgoglio, con una Lega che cresce in tutta Italia, aprire la sede regionale della Lega a Potenza per la Lucania, per la Basilicata. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo uomini e donne nella Lega nei comuni e in Regione. Ringrazio Mario per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà. Da ministro in otto mesi non si fanno miracoli, però ad esempio la progettazione e i lavori per la Salerno Potenza Bari è qualcosa che è atteso da una vita. Io sono orgoglioso di quello che ha fatto uno dei sindaci più importanti della Lega in tutta Italia con una squadra, perché da soli non si fa nulla, io non farei nulla, non avrei fatto nulla. C'è una squadra eccellente dietro Mario. Poi ragioneremo insieme, perché la Basilicata e Potenza avranno comunali, regionali ed europei. E siccome sono circondato da persone assolutamente in gamba, come Fasquale Pepe, Mario Guarente, gli assessori, continuano a fare gli assessori ovviamente, vedremo come valorizzarli al meglio. Com'è lo stato insalito della Lega in Basilicata? Eccellente, però io sono un perfezionista e quindi conto di raddoppiare il tesseramento. Già adesso il tesseramento della Basilicata ha superato gli obiettivi prefissati, però siamo a luglio e quindi c'è ancora tempo per coinvolgere tanti nuovi amministratori. Si stanno avvicinando sindaci, consiglieri, imprenditori. Conto che le liste in Comune e a Potenza, in Regione Basilicata e per le europee vedano la Lega primo partito del centrodestra. Questo è l'obiettivo che ci diamo. Un obiettivo che condividiamo in pieno e credo che abbiamo le risorse umane, donne e uomini, che contribuiranno perché venga raggiunto. L'ottimo lavoro fatto da Mario Guarente e dalla sua amministrazione comunale sia riconosciuto pacificamente da tutta l'opinione pubblica con cose concrete e quelli sono i criteri ai quali ci rifaremo anche quando andremo a parlare del prossimo sindaco di Potenza. Per la Regione sicuramente si discuterà su un piano nazionale, si sentiranno gli umori del territorio e si cercherà di scegliere il meglio per la Regione Basilicata. Se la Lega dovesse presentare il suo nome come candidato alla Presidenza della Regione lei sarebbe disponibile? Non io, noi siamo pronti.